La prima volta che la montagna diventò popolo nei Himalai, Sherpa aveva un gruppo di persone che migliorarono a Napoli da Tibet. Questo era prima che le due regioni diventavano i paesi separati. Il lavoro di Sherpa è di impostare campi, mangiare i porti, assicurare che i luci sono benissimo distribuiti e siano responsabili per la sicurezza del gruppo di traccia. Ma solo per un campio di base. I Sherpa, che continuano su campi di high-tech e sul summit, sono molto specializzati. Le attitudini di高i sono più pericolose, necessitando di più esperienze e portando di più paese. Un studio americano concluì che Sherpas avevano avuto una dettaglia genetica dopo vivere in una delle migliori regioni più alti, per un milione di anni. Questo gli ha dato un'avventura quando in attitudini di高i. Sherpa è ora circostando quasi tutti i record di nationalità in Sámi su ogni montagna in Himalaya. Tenzing Norgay, che inclinò il summit feast, è ancora il punto alto di Sherpa Pride. Appa Sherpa, in mei 2019, inclinò il suo 24th summit, il maggior record. La crescita del turismo montaneo ha portato a nuove comunità di porti in Pakistan, Tibet, Andes e altri paesi. Un'altra parte delle 225 persone, che avevano morto mentre cercano di conquistare più Everest, erano Sherpas. Sherpas non sono una garantia contro il tuo Hound then. in successo. Un'altra parte delle varie climberi maggiando nella montagna, che non fa bene il modo. Sherpas can mix from 2000 to 8000 in 2 months in high season. However, the risk of losing their lives is high. 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 I've seen a lot of stress The risk of losing my life has had wealth checks – if legen at it then hits Pog trace. The risk of losing my life is high ! Grazie.